segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te bisogna distinguere due cose la prima è una vicenda strategica e cioè la russia è costretta a lasciare kerson e sicuramente non è una buona notizia per putin nel senso che ricordiamoci ricordiamoci che non più di qualche settimana fa avevano fatto un referendum per annettere kerson e se ne stanno andando e quindi noi abbiamo un quadro di una difficoltà militare molto evidente poi quando si fa una ritirata bisogna completarla adesso l'inine non è in collegamento ma lui lo sa meglio di me che per ritirare delle truppe pare che siano 40 mila uomini bisogna far sì che queste truppe attraversano il fiume di nieper è ritornato l'inine è tornato il riscaldamento il telefono a si è riscaldato ma forse un po fa troppe dirette facebook o c'è il riscaldamento contro le contro le indicazioni di mario draghi fa una cosa gravissima lì dentro lo dico comunque finisco diciamo di dire il mio pensiero a kerson ci sono c'erano 40 mila uomini russi ritirarli da kerson non è una cosa semplicissima perché devono attraversare il fiume di nieper e il fiume è sotto il fuoco della artiglieria e dei missili ucraini quindi non è un'operazione semplicissima poi noi sappiamo che il nuovo comandante delle truppe in ucraina è un esperto della cosiddetta terra bruciata e cioè si posso anche ritirarmi e tra virgolette